I bimbi vanno a scuola e questo è il titolo dell'iniziativa che ha concluso la settimana della mobilità sostenibile del comune di Sestu, che con l'applicazione Green Steps sviluppata da TSC Consulting ha partecipato alla campagna promossa dall'Unione Europea al fine di promuovere mezzi di trasporto alternativi all'auto privata. I bambini della scuola primaria hanno provato le auto e le bici elettriche e si sono confrontati con gli esperti scientifici del progetto Tetris, Alessandro Chessa e Gianfranco Fancello, momento fondamentale per un progetto che si pone l'ambizioso obiettivo di modificare l'abitudine ormai radicata di utilizzare sempre e comunque la propria automobili anche per brevi spostamenti. Ma come hanno assicurato il sindaco Pili e l'assessore Crisponi, promuovere e incentivare la cultura della bicicletta rendendo la città a misura d'uomo non sarà un percorso breve ma senz'altro possibile per il benessere di tutti e dell'ambiente.